Siamo in attesa di un'altra donna speciale che fa parte del mondo del giornalismo, non vediamo l'ora di sentire anche il suo parere per quanto concerne tutte le tematiche che riguardano la donna e speriamo anche di festeggiare l'8 marzo tutti i giorni e non soltanto oggi perché come abbiamo potuto dire in più occasioni la situazione per le donne è un po' più complessa soprattutto anche a causa della pandemia Covid-19 e per fortuna siamo in compagnia di Francesca Lovatelli Caetani giornalista TG com 24, buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi Grazie a voi, grazie a voi Io non vi dico buon 8 marzo perché io spero che l'8 marzo sia tutti i giorni perché quando finiremo di celebrare l'8 marzo come l'unica giornata dedicata alle donne forse avremo fatto dei passi avanti Ecco in effetti la mia domanda era lei come donna anche come cittadina come giornalista come un volto televisivo che cosa si augura nel 2021 e anche a tutte le donne Io mi auguro che sin da piccoli bambini e bambine possano imparare un nuovo modus vivendi perché comunque l'educazione civica il rispetto per noi donne il rispetto per tutte le persone va insegnato sin da bambini quindi un nuovo modo di vivere la vita e imparare il rispetto nei confronti del nostro prossimo e quindi anche delle donne Senta le volevo citare una statistica nel 2020 il 42% dei messaggi che girano sul web in Italia sono messaggi di odio nei confronti delle donne poi a secondo posto discriminazione razziale soprattutto nei confronti degli ebrei se vogliamo pensare anche di Liliana Segre Purtroppo tutto ciò che abbiamo visto sul web è terribile e al terzo posto è l'odio nei confronti degli omosessuali Perché? Perché secondo lei questa è la situazione in Italia e come può essere migliorata? Perché a mio avviso è critica? La donna viene colpita da vari punti di vista innanzitutto è vista come un soggetto fragile più attaccabile dal punto di vista fisico viene attaccata o perché troppo bella o perché troppo brutta o perché troppo bassa o perché troppo alta o perché troppo magra o perché troppo grassa Quindi c'è un concetto di educazione totalmente sbagliato Gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per difendere le donne come ben sapete io mi batto con l'associazione Mai Più Solo contro la violenza di genere, contro la violenza di ogni tipo, contro il bullismo e il cyberbullismo grazie anche all'operato di un ingegnere informatico molto attivo sul territorio nazionale che è l'ingegner Vincenzo De Feo Gli strumenti li abbiamo ma la burocrazia è molto lenta ed è comunque importante impostare un nuovo concetto educativo che parte sin dalla famiglia, dalle scuole elementari, dalla società cioè voi mi dovete spiegare questa cosa io ve la dico per farvi sorridere se io entro in un bar viene detto a mio marito buongiorno dottore e a me viene detto buongiorno signora anche se magari io ho due lauree e mio marito ne ha una sola allora è un concetto da sradicare questo la donna deve essere vista con un'altra ottica e per vederla da un altro punto di vista serve una base educativa che vada a riscrivere la realtà e le basi della nostra società e noi donne abbiamo un grosso compito da questo punto di vista anche dal punto di vista educativo però non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno anche i papà perché quando rivolgono una domanda a una donna come hai fatto a conciliare la tua attività giornalistica con la tua attività di madre? Perché non dicono la stessa cosa a un papà? Come hai fatto a conciliare la tua attività di imprenditore con la tua attività di papà? Perché una donna può essere offesa e un uomo non deve essere offeso? Cioè la donna deve essere rispettata allo stesso modo e per fare questo bisogna partire dalle basi educative della nostra società che ormai data anche la pandemia, dato il Covid che non è vero che ci ha reso migliori anzi ci ha reso più cattivi, più invidiosi, più aggressivi la gente è arrabbiata, è in giro per la strada mancano i soldi, manca lo stipendio a fine mese quindi è incattivita, non ha sviluppato la solidarietà ma il rispetto va insegnato a tutti a tutti è la base della nostra convivenza è la base di una società felice solo così facendo possiamo insegnare e rieducare la nostra società e quindi far rispettare anche le donne Ecco, una società felice sembra un sogno è un obiettivo raggiungibile secondo lei e non solo, le volevo chiedere un parere anche se l'Italia è sulla strada giusta per quanto concede le pare opportunità di cui le ha parlato, soprattutto Non credo, non è ancora sulla strada giusta siamo molto indietro dal punto di vista della mia professione per esempio ho raccolto una serie di dati la presenza delle donne nei media italiani è massiccia dal punto di vista delle percentuali siamo al 40% però questa alta percentuale non ha un riscontro a livello decisionale perché i luoli di potere soprattutto a livello di grandi giornali di televisioni come vice direttori, direttori, capi redattori vede un'altissima percentuale a livello di uomini non parliamo poi del discorso del pay gap gender quindi la differenza riguarda dal punto di vista dello stipendio tutte le età e tutti gli incarichi quindi oltre a tutto ciò per tornare al discorso che facevi tu prima diamoci del tu perché anche noi due siamo due colleghe il reale ostacolo alla libertà di espressione di molte giornaliste è proprio questo fenomeno dell'odio e questo linguaggio dell'odio che rischia di condizionare la libertà di espressione di molte giornaliste sono stati presi dei provvedimenti sono stati fatti dei decaloghi però questi interventi in realtà devono essere resi obbligatori anche tramite una formazione specifica cioè tutto inizia dalle giovani generazioni che purtroppo in questo momento sono anche demotivate dallo stato in cui si trova il sistema scolastico il sistema universitario io stessa collaboro con l'università Yulm con un master in comunicazione e purtroppo mi ritrovo a fare le lezioni in DAD questo penalizza perché non c'è più il rapporto umano invece il percorso didattico il percorso formativo delle giovani generazioni parte anche dal contatto fisico tra alunni e professori e secondo lei si può ancora rimediare o è troppo tardi? insomma la pandemia deve essere curata bisogna vaccinare tutta la popolazione bisogna fare degli interventi mirati delle norme adeguate dal punto di vista della formazione scolastica non possiamo evitare di riattivare un contatto tra alunni e professori perché i ragazzi che stanno tutto il giorno attaccati agli strumenti tecnologici aumentano i rischi e oltretutto fenomeni come bullismo e cyberbullismo diventano ancora più aggressivi cioè vediamo questi ragazzi che dopo essere stati tutto il giorno sono attaccati agli strumenti tecnologici escono e magari bevono utilizzano delle droghe si danno pugni reciprocamente insultano le ragazze postano le foto di aggressioni quindi l'eccesso dell'utilizzo degli strumenti tecnologici aumenta il rischio dell'aggressività sin dalle più giovani generazioni quindi bisogna agire in modo compatto con una formazione scolastica diversa e un intervento formativo sin dalla più tenera età per quanto riguarda le giovani generazioni che purtroppo in questo momento sono penalizzate ecco come ultimissima domanda le volevo chiedere i suoi buoni propositi per il 2021 ovviamente per quanto riguarda lei stessa ma anche le donne ma io non farei tanto una differenza tra uomini e donne i miei buoni propositi sono nei confronti delle persone le persone vanno rispettate e io amo essere rispettata dalle persone io ho trovato amiche e amici in tutte le categorie e in tutti i generi sessuali e lo stesso per quanto riguarda i nemici i miei buoni propositi è di mantenere un senso di armonia di equilibrio cosa che faccio anche grazie al mondo dello sport e questa mia passione per lo sport mi contraddistingue da sempre sin da quando ero piccolina e questo mi ha aiutato a mantenere un equilibrio e un'armonia il mio buono proposito per il 2021 è quello di mantenere questo senso di equilibrio e poi di aguzzare un po' l'ingegno anche per le persone negative che possono avvicinarsi a me sono davvero felice a sentire che lei è una appassionata allo sport lo sono anche io la ringrazio la ringrazio per il suo intervento per il suo tempo Francesca Larratelli Caretani giornalista TG con 24 grazie e buon proseguimento buon 8 marzo evidentemente grazie grazie anche a te grazie a tutte e a tutti grazie ancora allora noi ci prendiamo una brevissima pausa obbligitaria poi ci raggiunge in diretta Dea d'Aprile Rettore Università di Medicina Integrata Economia e Ricerca rimanete con noi Grazie a tutti Grazie a tutti